Il tema della piscina sovracomunale divide le amministrazioni di Riva e Arco. Il sindaco rivano Adalberto Mosaner si dimostra favorevole al progetto di una piscina sovracomunale e spiega che l'amministrazione arcense aveva individuato l'area di proprietà dell'AMSA a Linfano come possibile soluzione, fino a che il Consiglio di amministrazione della società ha proposto altra progettualità e abbandonato l'opzione piscina. Vi è stata poi una proposta di Arcese e da lì la presa d'atto di Arco e la richiesta della sistemazione della piscina del Rione 2 Giugno e di quella di Pravi. Il sindaco Mosaner sostiene che i costi di gestione che nascerebbero dall'ampliamento e sistemazione dell'impianto del Rione 2 Giugno sarebbero troppo alti e il comune di Riva non può accollarsi da solo la spesa per un impianto che andrebbe a soddisfare l'intero territorio dell'Alto Garda. Mosaner dunque fa sapere che attenderanno di vedere cosa succede con la variante urbanistica di Arco e poi si valuterà sul da farsi. Non si è fatta attendere la risposta di Maria Luisa Tavernini, assessora allo sport e al turismo del comune di Arco, la quale spiega che la proposta fatta da Amici Nuoto Riva, che riguarda l'ampliamento della piscina di Riva, è inerente a una soluzione indoor. Diverso invece il discorso della proposta di Arcese, la cui fattibilità dal punto di vista tecnico e urbanistico è attualmente in corso di valutazione e che riguarda invece una piscina all'aperto, quindi aperta da maggio a ottobre, e che andrebbe a sostituire quella di Pravi. Quindi di fatto una cosa non esclude l'altra. Grazie.